Ok, guarda bene, adesso io ti faccio vedere delle carte e tu ne pensi una, ok? Ok. Quella che vuoi tu, ok? Quella che vuoi tu, ok. Ce l'hai? L'hai vista? Sì. Quella che vuoi tu, Lidea? Sì, 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 l'hai vista. Ok. Tira il mente adesso, eh? Sì. Guarda. Oh my god! Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Prendila, prendila qua, 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 qua. Dove cazzo? Ma come cazzo? Ma non puoi prenderla! Ma che cazzo? Come cazzo?